Che sensazioni ha giocare contro il Pescara in questo stadio? È una bella sensazione giocare all'Adriatico, quest'anno non è la prima volta, giochiamo ogni partita in casa qua, però sotto il pubblico pescarese è un'altra cosa, in campionato ci ha detto bene a noi, ma in Coppa Italia è andata diversamente. Che partita è stata? È stata una partita equilibrata, diciamo che loro hanno tenuto più il pallino del gioco, noi abbiamo provato a giocare sui loro errori, abbiamo avuto qualche occasione, nel primo tempo non abbiamo concreatizzato l'occasione con Giambè davanti al portiere e loro il nostro errore ci hanno punito. La maglia bianca-azzurra la pensi ogni tanto? Adesso gioco per il Pineto e penso a dar tutto per questa maglia, Poi quello che verrà, verrà. Vai, diplomatico ma bravo.